Allora, settimo nell'ultima tappa del Giro del Trentino e forse settimo anche oggi, ancora all'ordine d'arrivo da confermare. Direi che tutto sommato non ci si può lamentare, anche se essere nel gruppo di davanti e non arrivare nei primi tre forse brucia dopo una corsa del genere. Sì, diciamo che ho confermato il mio stato di forma, settimo l'altro giorno e probabilmente settimo anche oggi, però sono arrivato nel finale un po' con le gambe stanche e è stato uno sprint lanciato lungo, quindi non ho potuto fare di più. Come è andata sulla bocchetta? È partito subito la Nippo a fare un buon ritmo, poi è partito Cunego ed è rimasto insieme a lui Zardini. Loro due hanno fatto la differenza e dietro si è formato un gruppettino di 5-6 dove ero presente io. Dopo ci siamo un po' rotti in discesa, ma una volta ricongiunti, ad avvenire fino all'arrivo li abbiamo ripresi. Un voto che ti daresti per questo giro dell'Appennino? Eh dai, oggi un bel 7 me lo merito. Quindi sei il 7 che continua a girare. Sembra che sia il mio numero in questo periodo, quindi... In bocca al lupo per i prossimi gatti. Grazie Crepi.